Molto molto buona, visione di gioco sicuramente ad alti livelli, passaggio che si trasforma in un assi, vi faccio vedere l'azione perché stiamo parlando di calcio, transizione, eccolo lì che avanza ragazzi, tocco sublime, ve lo lascio guardare, visione di gioco molto interessante, palla in profondità. Milan ha la costante ricerca di un trequartista, dopo la partenza di Cialanoglu e dopo le difficoltà viste per arrivare a Vlasic, il nome nuovo spuntato nelle ultime ore è quello di Julian Brandt, giocatore tedesco del Borussia Dortmund sul quale sembra ci sia anche la Lazio, un po' più freddina però a causa delle cifre richieste. Dal Borussia Dortmund faremo un'analisi preliminare che approfondiremo in un secondo momento se l'acquisto dovesse rivelarsi effettivo, però prima di iniziare come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e lasciare un like al video che ovviamente aiuta sempre. Passate sui miei scouting per quanto riguarda tutti gli altri social, il sito internet per i corsi di match analysis e scouting. Ultimi due posti per agosto, trovate tutti i link qui in basso in descrizione, Facebook, Twitter, Twitch, oggi in live, Instagram, chi più ne ha più ne metta, gruppo Telegram, ma ma ma. Parliamo di Julian Brandt, si parla di un'operazione potenziale di circa 25 milioni di euro, prestito più diritto di riscatto, ragazzi, le solite manovre da calciomercato. Però, 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 analizziamo un po' che tipo di giocatore è e come potrebbe soprattutto tornare utile alla squadra rossonera. Giocatore teresco, classe 96, ha 25 anni, 1,85 per 83 kg, quindi prestanza fisica interessante. Piede destro, va in scadenza nel 2024, posizione, qui dobbiamo aprire un po' una parentesi, perché Instat ci dice che è un centrocampista centrale barra mediano. Allora, secondo me, uno dei punti di forza di Julian Brandt, prima di passare alla lavagna tattica, è quello della duttilità tattica, perché durante la stagione ha giocato una serie importante di partite, molte da subentrato, però ha giocato come centrocampista centrale, come trequartista centrale, come ala sinistra, come ala destra. Infatti, vedete sul campo che i puntini ricoprono tutta la superficie del terreno di gioco, noi parleremo di Julian Brandt in chiave ala sinistra, barra mezza ala sinistra, soprattutto pensando alla sostituzione di Cialanoglu. Quindi, da quel punto di vista, un giocatore duttile, interessante, che gioca, spesso e volentieri, sulla sinistra a piede invertito. Però, ovviamente, dobbiamo approfondire, come sempre dal punto di vista tattico, che tipo di giocatore è, e ragazzi, io partirei dalle caratteristiche tecniche, che sono le più interessanti. Iniziando dalla finalizzazione, ragazzi, qui vi faccio vedere un grafico che rappresenta i soli quattro gol stagionali effettuati da Brandt. Bottino un po' magro, per così dire, però, alla scusante, appunto, come detto in precedenza, del fatto che è un giocatore che spesso è subentrato, quindi non ha avuto sempre a disposizione i 90 minuti per effettuare giocate importanti. Qui, cosa capiamo? Dove vi voglio portare? Vediamo quattro gol. La metà dei gol che vediamo qui riprodotti sul campo provengono da situazioni di contropiede, quindi transizione positiva. Un giocatore, quindi, molto utile in fase di contropiede. Tecnico, veloce, attacca gli spazi in maniera corretta, quindi occhio perché potrebbe essere un'arma da quel punto di vista. Gli altri gol, invece, come vedete, effettuati da fuori l'area di rigore, ci portano a capire che, dal punto di vista del tiro della distanza, anche qui potrebbe essere un'arma interessante. Sicuramente non un cecchino infallibile, perché solo i quattro gol in quasi circa 40 partite, ripeto, sono un po' pochino, però, dal punto di vista tecnico, qualità che ha messo nelle giuste condizioni, potrebbe rivelarsi un'arma interessante. Passiamo oltre, ecco proprio qui, un tiro, giocatore che, destro, a piede invertito, può effettuare giocate del genere, sia per quanto riguarda i tiri, sia per quanto riguarda i passaggi. Questo è un esempio di come e dove potremmo vedere utilizzato il buon Julian Brandt. Vi faccio vedere l'azione per capire meglio di cosa stiamo parlando. Eccolo lì, pallone, giocato, disponda dal compagno di squadra, prende la mira, gol. Sicuramente molto, molto bello. Passiamo ad altre caratteristiche sempre tecniche, ragazzi, non ci nascondiamo. Brandt è un giocatore prettamente tecnico, che dà il meglio di sé durante la fase di possesso. Non siamo qui a scoprire l'acqua calda e devo dirvi che, dal mio punto di vista, aspetto tecnico, ragazzi, è un giocatore super, super interessante. Qui mette in mostra tutte le sue qualità in un'unica azione. Vediamo, controllo della palla eccellente, che inoltre crea superiorità numerica. Di conseguenza, conduzione della palla molto, molto buona. Visione di gioco, sicuramente ad alti livelli. Passaggio che si trasforma in un assist. Ragazzi, abbiamo tutto qui in una slide. Un giocatore che, da questo punto di vista, in transizione positiva, come in questo caso, contropiede, veramente si esprime al meglio. È un giocatore al quale io affiderei la tre quarti milanista. Ragazzi, devo dirvi, al giorno d'oggi, considerando anche le opzioni disponibili in casa Milan, assolutissimamente sì. Secondo me il prezzo richiesto dal Borussia Dortmund può essere forse leggermente elevato per quello che è stato il suo minutaggio. Però, ragazzi, nel mercato attuale sono cifre che, secondo me, ci stanno alla grande. Come sempre, vi faccio vedere l'azione perché stiamo parlando di calcio. Transizione, eccolo lì che avanza. Ragazzi, tocco sublime, ve lo lascio guardare. Visione di gioco, molto interessante. Palla in profondità, assist. Effettuato in maniera perfetta. Sì, mi espongo, ripeto, in maniera perfetta. Andando oltre, vediamo un po'. Parliamo del dribbling. Un giocatore che, perché mi piace da questo punto di vista? Perché non è fumoso rispetto a quello che possiamo vedere. Abbiamo visto sempre su questo canale molti centrocampisti, trequartisti, attaccanti, dribbling, torno indietro, ne salto tre. Ma l'azione non procede. Secondo me Brandt, a questo punto... Brandt... Da questo punto di vista Brandt a me piace. Giocatore effettivo, più effettivo rispetto a quello che la media di molti suoi colleghi. Giocatore che, palla attaccata al piede, ne salta uno, sì, a volte due, però insomma, una volta creata la superiorità, punta a sviluppare in maniera efficiente l'azione. In questo caso, salta un uomo, palla in profondità per un compagno si propone. Inutile specificare che andiamo a guardare anche questa azione. Eccolo lì che riceve palla, un tocco, praticamente, ragazzi, lascia l'avversario sul posto, dà la palla, continua a proporsi un giocatore. Ripeto, da questo punto di vista, piace, ripeto, effettivo. Capisce il gioco, effettua la giocata giusta al momento giusto, sicuramente non è infallibile, però, ripeto, lo preferisco rispetto a molti suoi colleghi. Parliamo un attimino anche della fase di non possesso. Sicuramente un giocatore offensivo, non gli si va a chiedere grandi abilità nella marcatura, però spesso dice presente quando è chiamato a ripiegare. In questa slide, un accenno velocissimo, vediamo la freccia tratteggiata che indica una lunga corsa che punta ad intercettare questa palla, quindi avversari che giocano al centro del campo. Brandt, capace di leggere abbastanza bene, occhio, le situazioni. Intercetto, si propone, corsa, ragazzi, da questo punto di vista, in fase di non possesso, un giocatore che sicuramente dice la sua, si fa vedere, aiuta, non si fa pregare per quanto riguarda tornare ad aiutare i compagni, un giocatore che mi piace. Sicuramente ci sono punti di debolezza, non li vediamo in questo video. In questo video vediamo un po' solo le qualità principali in positivo. Ripeto, l'analisi più approfondita, sia dal punto di vista tecnico-tattico che statistico, arriverà nel momento in cui dovesse arrivare anche l'ufficialità. Però, nel frattempo, come sempre, sono curiosissimo di sapere la vostra, fatemi sapere qui in basso nei commenti cosa ne pensate, vi stuzzica, non vi stuzzica, lo conoscete, ragazzi, qualunque parere, qui in basso, come sempre, e benvenuto! L'analisi di oggi finisce qui, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e condividetelo se vi va, è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi, un salutone, ed al prossimo appuntamento. Ciao! Ciao! Ciao!